Tra i modelli da imitare abbiamo il comandante della Polizia Municipale di Frattamaggiore, il dottore Biagio Chiariello, che pochi giorni fa ho intervistato a Sant'Antimo. È stato invitato a relazionare nell'ISIS Ghetano Filangeri, qui a Frattamaggiore dove ci troviamo, per trasmettere ai giovani l'importanza della convivenza civile, delle regole e della cultura ambientale. Vuole dire lei qualcosa, comandante ai nostri web spettatori? Sì, innanzitutto io volevo precisare che spesso questi incontri sono importantissimi, soprattutto perché abbiamo come nostri interlocutori i ragazzi. Nel corso del convegno ho sottolineato più volte che noi dobbiamo più operare verso una legalità praticata, e non solo predicata. Mi riferisco ai piccoli gesti quotidiani. Si parla spesso di legalità facendo intendere che comunque la legalità è solo quella contro il male, quindi contro la camorra, contro le mafie, ma in realtà legalità significa anche lottare contro ogni forma di inquinamento. Spesso vediamo delle discariche, dei comuni di spazzatori per le strade, ma sicuramente quei comuni di spazzatori ce li mette il cittadino. Sicuramente non sono solo rifiuti speciali che vengono abbandonati, quindi da parte delle aziende industrie, anche dal semplice cittadino vengono abbandonati. Quindi il mio invito era soprattutto ai ragazzi cercare in quei gesti piccoli quotidiani di supportare le forze di polizia, nonché le amministrazioni comunali, attraverso degli atteggiamenti più civili. Il semplice gettare una carta a terra, una cicca di sigaretta, potrebbe portare a un inquinamento del suolo, a un decoro urbano che viene compromesso spesso. Quindi servirebbe a noi attuare di più una politica di collaborazione di cittadinanza attiva, cioè attraverso delle reti, dell'associazionismo, ma soprattutto attraverso una presa di coscienza del cittadino che dovrebbe più rispettare le regole per darci un ambiente più pulito. Un'altra problematica che vediamo nelle nostre zone, io mi sono reso autore di questa lotta continua, sono da circa un mese a fratta maggiore, dove stiamo sanzionando gli occupanti abusivi di marciapiedi attraverso anche degli alimenti esposti. Quindi l'invito alla cittadinanza era quello di non acquistare questi prodotti esposti all'inquinamento e allo smog. Lo ha stabilito il Ministero della Salute, i vari medici e oncologi. Il cibo esposto all'esterno è inquinato e quindi porta delle conseguenze dannose per la salute.